Quello che ti porto oggi è un tema che, ammetto, porto con un po' di fatica perché, essendo stato io stesso artista per dieci anni, alcune cose le ho vissute sulla mia pelle in primi. Ci sono stati dei bellissimi risultati di cui sono fiero, ci sono stati dei grandi errori che ho commesso e quindi parlare di temi legati alle scelte giuste non è una cosa facile, però ci proveremo. La domanda chiave di oggi è come rientri dai costi di una produzione originale, una produzione di musica originale. Allora, innanzitutto il tuo obiettivo non può essere rientrare dai costi. Rientrare dai costi è una frase pericolosissima e intrinsecamente sbagliata. Perché? Perché mettiamo che tu abbia fatto un disco, magari sei riuscito a rientrare dai costi di quel disco e adesso ne fai un altro, quindi di fatto investi dei nuovi soldi. E se quel disco anche dovesse rientrare dai costi, poi che cosa fai? Investi di nuovo. E ogni volta rientri, però in realtà non vai da nessuna parte, rimani sempre lì, rimani lì stagnante. Se tu poi addirittura a un certo punto fai un errore, come era successo a me ai tempi, che avevo fatto un disco flop che mi ha costato un buco di 12.000 euro, forse anche di più, ecco, cosa fai dopo? Dove li prendi i soldi per fare il prossimo, per fare la prossima produzione? Il tuo obiettivo non può essere rientrare dai costi, il tuo obiettivo deve essere guadagnare, il tuo obiettivo deve essere farci del margine per mettere da parte dei soldi per la prossima produzione e anche per dei buchi eventuali. Mi spiace, ma se vuoi passare dal fare la musica per hobby unicamente al cominciare a lavorarci, almeno come attività side, devi metterti nell'ottica di avere un'attività economica, di avere un'attività da libero professionista, praticamente con una logica imprenditoriale in cui i costi devono essere sempre inferiori ai ricavi. Tu devi avere un guadagno se vuoi, come dire, restare a galla e poter avere un progetto che sia all'inizio sostenibile e poi, come dire, lucrativo, che possa darti grano. Non vorrei che sembrasse un discorso freddo perché parliamo di soldi, perché al contrario andremo a parlare di argomenti che toccano nel profondo l'anima dell'artista. Però c'è una cosa che va detta, proprio gelida gelida, il guadagno non passa dal risparmio, ma questa cosa te la può dire qualsiasi libero professionista, anche non nel campo musicale. Ci sono delle modalità di risparmio che sono intelligenti e utili, sicuramente, cioè ci sono delle cose che puoi fare per ottimizzare i costi, ma si tratta più che altro di saperli gestire. Cioè tu per poter guadagnare di più dal tuo progetto devi riuscire a gestire i costi, cioè sapere quali sono quei costi che devi tagliare perché non ti portano a niente e capire quali sono invece quegli investimenti che ti stanno dando dei risultati, ma quegli investimenti li devi aumentare. Cioè tu devi, per riuscire a guadagnare di più, devi anche spendere di più. È impossibile guadagnare di più spendendo di meno. È spendendo meglio che riuscirai a guadagnare di più. Comunque, qualsiasi strada tu decida di intraprendere per arrivare a guadagnare dal tuo progetto musicale, sia che tu voglia farlo come attività accessoria, sia che tu voglia farlo come attività principale, comunque al centro di tutto devi essere cosciente che c'è una cosa ed è il tuo sound, la tua identità come artista e quello che è il vestito sonoro che indossi per la tua musica. Perché? Perché se tu non hai un sound riconoscibile, se tu non hai un suono che è riconoscibile nel tempo e occhio non significa che tutti i brani devono suonare uguali, ma che ci sia qualcosa che li collega, tu non hai la coerenza necessaria nelle tue produzioni per convertire degli ascoltatori in fan. Non puoi in nessun modo fidelizzare un pubblico. Perché se un ascoltatore non riesce a riconoscerti quando ti sente, che ne so, in radio o quando vede una tua foto, quando vede una tua locandina, quando legge il tuo nome, non riesce a fare quel nesso che dopo un po' di tempo gli fa dire ah sì, questo artista mi piace, mi è piaciuto ripetutamente, ho ascoltato dieci brani nell'arco di un anno, mi sono piaciuti tutti, sono disposto a comprare il suo disco, sono disposto a andare al suo concerto e spendere dei soldi, perché se parliamo di guadagno, se parliamo di rientrare e superare i costi, parliamo di questo, parliamo di fidelizzazione del pubblico. Quindi sia che tu voglia vendergli dei dischi, sia che tu voglia vendergli dei biglietti, sia che tu voglia vendergli un crowdfunding, qualsiasi cosa tu voglia fare, devi prima di tutto costruirli questi fan. E come lo fai? Attraverso un sound tuo, unico, differenziante e riconoscibile. Che tra l'altro è l'unica arma che hai a disposizione anche per creare delle relazioni proficue con i media. Ho parlato delle relazioni con i media e di posizionare la tua musica nei media in due video fa, se non l'hai visto il video vai a vedertelo, proprio perché anche chi lavora nei media sono esseri umani e sono ascoltatori e sono soprattutto per definizione, almeno per la maggior parte, si spera degli ascoltatori attenti, affezionati, delle persone che masticano musica. e quindi che essendo molto attenti a queste cose noteranno ancora di più se c'è un'incongruenza. Cioè se tu fai, ogni volta che fai una produzione suona completamente diversa dalla precedente, perché non sai bene chi sei, cosa stai raccontando e dove vai, e uno si perde. Magari gli piace, il tuo pezzo te lo passa in radio, però non è che spenderà tante belle parole. Quindi non aiuterà, non ti aiuterà nel tuo processo di arrivare al nuovo pubblico, di generare dei nuovi potenziali fan, che deve essere il tuo obiettivo, assolutamente sempre. Ok? Quindi sia che tu, come dire, sia che si parli di relazione diretta col tuo pubblico o relazione indiretta, quindi passando da dei media che sono un veicolo di esposizione, un veicolo promozionale, comunque il discorso rimane. Tu devi avere un tuo marchio di fabbrica riconoscibile e soprattutto autentico e unico. Quindi non soltanto un sound che sia figo, ma che sia in qualche modo rappresentativo di chi tu sei. Un vestito sonoro che ti stia bene addosso. Quindi non solo qualcosa di bello, ma qualcosa di, come dire, appunto che ti stia bene addosso. Ed è un equilibrio delicato quello tra l'estetica e l'autenticità. Però è proprio lì che risiede la chiave di tutto. Qual è la definizione di identità sonora? A me piace definirla come il riflesso sonoro, il riflesso musicale dell'identità personale. Cioè l'espressione in musica di chi tu sei. Ho anche un piccolo schema, tra l'altro, che adesso te lo faccio vedere. Allora, eccolo qua. Quello che appare sullo schermo del cinema è quello che la tua musica effettivamente è, è quello che il pubblico percepisce. Quindi è proprio quello che si sente, quello che si vede, la tua espressione artistica. ciò che genera quell'espressione, ciò che viene proiettato, è la tua identità. Cioè quello che tu hai costruito a livello sonoro, visuale, testuale, ritmico, che rappresenta chi tu sei. Cioè immagina un regista crea un film, quel film viene stampato sulla pellicola, la pellicola viene proiettata sullo schermo. Il processo di produzione è il processo che ti porta a prendere la tua idea, stamparla sulla pellicola e poi proiettarla sullo schermo. Quindi il processo produttivo è proprio prendere la tua personalità, il tuo racconto, i tuoi valori, le tue credenze, la tua percezione, la tua esperienza e creare una matrice per i tuoi brani. Quindi la tua identità sonora sarà anche poi fonte di nuovi brani. Brani che sono appunto il veicolo dei tuoi valori, delle tue credenze. Il veicolo per raccontare la tua esperienza di vita, la tua esperienza della realtà, la tua percezione attraverso la musica e farla arrivare al pubblico. Questo tra l'altro non significa che per forza tutti gli artisti devono essere, come dire, raccontare esplicitamente la loro vita, la loro esperienza con i nomi delle persone coinvolte. Se partiamo dal parallelismo col cinema, non tutti i registi devono fare documentari. Si può fare il fantasy. Quindi tu puoi prendere la tua esperienza, sublimarla, come dire, attraverso il tuo modo di esprimerti in una storia inventata, creando dei personaggi e sarà comunque espressiva di chi tu sei. Però deve esserci questa volontà di raccontare qualcosa, come dire, che perlomeno esprima qualcosa che senti e che sia un modo tuo di raccontarla e non il modo di qualcun altro. Su questo tema ci torniamo perché è la chiave di lettura di tutto ed è la fonte di tutto l'errore. Ecco, l'unica cosa che vorrei ancora dire che proprio riguarda specificamente la questione del guadagno e del rientrare, che abbiamo visto, rientrare no, guadagnare meglio, l'identità sonora è anche la base della tua strategia. Tu non puoi costruire una strategia di marketing per arrivare ai tuoi potenziali fan o una strategia promozionale per anche promuovere che ne so, un tuo concerto, un tuo disco se non hai ben chiaro la tua identità come artista. Cioè, se tu non sai chi sei in musica non puoi sapere nemmeno a che pubblico rivolgerti. Cioè, banalmente, se tu non sai a che tipo di persone può veramente piacere quello che tu hai da raccontare e lo stile musicale con cui lo racconti, come fai a capire, ad esempio, a che locali di proporti per suonare, in che modo presentarti, che stile grafico scegliere anche, quindi non c'è solo l'aspetto musicale, c'è anche quello comunicativo visivo. Come fai a, come dire, a creare anche un immaginario visuale che sia coerente e congruente con quello che è la tua musica? Prima devi avere chiaro chi sei musicalmente e costruire l'identità sonora è un percorso lungo, è una cosa che si fa nel tempo e che presuppone molta introspezione e lavoro su un bel numero anche di brani, non perché l'identità sonora passi dal numero di brani, ma perché semplicemente ci vuole allenamento per costruirla. I brani sono il veicolo attraverso il quale tu prenderai chi sei nel, come dire, nella vita di tutti i giorni e trasferirai quella cosa nel, nel tuo io artistico e eventualmente nel personaggio che interpreterai quando sei sul palco, che tu voglia interpretare un personaggio o meno. Tra l'altro, se tu mi dici ah ma la mia musica può piacere a tutti, cioè io non ho bisogno di pensare a chi rivolgermi e come rivolgermi a qualcuno perché la mia musica è una cosa che può piacere a tutto il mondo, dillo subito perché c'è un cazzo di problema. È il problema numero uno. La tua musica non può piacere a tutti, tu non puoi sperare di piacere a tutti e se davvero piaceste a tutti come direbbe il grande Rick Rubin che ho già citato se la tua musica piace a tutti vuol dire che non sei andato in profondità a sufficienza molto probabilmente. Le grandi idee spezzano sempre il mondo in due. Non esiste una grande idea che piace subito a tutti anche perché quando si crea qualcosa di veramente nuovo di veramente unico molto spesso non viene capito inizialmente e sta anche a te riuscire a farlo capire in qualche modo. Sta anche a te riuscire a comunicare quello che sono i tuoi valori e i valori che hai espresso attraverso la tua arte e in quel modo sarai anche polarizzante. Cioè sarai in grado di escludere le persone che tu non vuoi avere come pubblico perché che cosa te ne frega di avere un pubblico di ascoltatori che però non può diventare tuo fan che quindi non è disposto anche a spendere ripetutamente per appoggiare la tua musica. Tu per poter essere appoggiato da qualcuno devi piacergli veramente. non so se ti mai hai pensato ma che qualcuno per diventare tuo fan si deve innamorare della tua musica deve sentire un legame. Oltre al fatto di riconoscerti deve anche sentire qualcosa con cui si sente in risonanza. Ok? Il vero problema appunto è che la maggioranza degli artisti emergenti non ha chiara questa cosa. Molti artisti emergenti cercano o di piacere a tutti o di seguire dei canoni stilistici di genere e io non è che sia contrario al genere in termini generali anzi il genere è anche una cosa figa perché crea aggregazione crea società il genere è un ottimo modo per collegare persone anche di tantissimi luoghi del mondo e unirli anche persone molto diverse che si uniscono perché credono nella stessa cosa gli piace la stessa cosa o comunque apprezzano magari uno stesso artista questa cosa è fighissima è fantastica però quando ci si focalizza troppo nei canoni negli stilemi nei linguaggi di genere non si crea qualcosa di unico si crea qualcosa di omologato e invece le cose veramente fighe nascono o dai crossover o quando si rompono le regole perché si crea qualcosa che chi se ne frega di cosa pensano gli altri fai qualcosa che piace a te e che veramente sia espressivo di quello che tu hai da dire basta punto punto il lavoro vero il 90% del lavoro che io devo fare come produttore artistico e qua c'è veramente è incredibile si pensa spesso che il produttore artistico sia uno che patina la tua musica che la vuole lucidare che la vuole rendere più commerciale più piacevole è una cazzata produttore artistico a quella roba lì ci pensa già l'artista ad autocensurarsi a cercare di piacere produttore artistico ha lo scopo di di aiutare l'artista a non perdersi cioè il mio vero lavoro la cosa più difficile è capire che cosa l'artista veramente vuole comunicare e aiutarla a non deragliare da quel binario aiutarlo a arrivare dritto al punto a quello che vuole comunicare nel modo giusto giusto per lui a essere se stesso ed è una cosa estremamente difficile essere se stessi è veramente difficile non autocensurarsi non cascare nella trappola di cercare di fare la hit non si può fare la hit a tavolino si può fare la tua hit quella che è maggiormente espressiva di quello che tu hai da dire e e se non c'è quel presupposto non potrà mai essere una hit no cioè bisogna raccontare qualcosa che che sia comunque qualcosa di mai sentito qualcosa di speciale invece io vedo che purtroppo la maggior parte degli artisti emergenti fanno tante produzioni a stampo con queste questi canoni di genere spesso con strutture sempre uguali trite e ritrite o addirittura senza una struttura perché ci si fissa su dei dettagli senza vedere poi la macro struttura dei brani e la macro struttura del concept in cui questi brani sono racchiusi anzi molto spesso il concept non ce n'è anche molto spesso gli artisti cascano in questa mediocrità di concentrarsi sul brano singolo ma chi se ne frega del brano singolo non basta un brano a definire un artista non basta un brano a raccontare una storia veramente forte ed è molto figo quando in un concept che sia un album che sia un EP o che sia anche solo una set list di un concerto i brani insieme raccontano una storia i brani sono scene di un film ma il brano in sé non è lui la storia la storia è composta dall'insieme di questi brani e questa cosa è fantastica è lì che si vede veramente la capacità di un artista di costruire qualcosa di profondo qualcosa di grande ci sono poi una serie di altri problemi che la maggior parte degli artisti emergenti hanno che adesso non voglio sbobinare nel dettaglio ma che posso elencare sono i testi scrivete qualcosa di forte qualcosa di profondo abbiamo non so quanti anni quanti decenni adesso di storia del rock che per la maggior parte dei testi di merda dai scriviamo qualcosa di bello scriviamo qualcosa di profondo chi se ne frega delle solite cose già sentite non si scrivono i testi per piacere si scrivono i testi per necessità punto se non scrivi i testi per necessità allora piuttosto non scrivere niente fai musica strumentale e anche lì il contenuto comunque passa anche dallo strumentale non mica solo dalle parole poi magari evitiamo di usare sempre gli stessi suoni e qui mi rivolgo non solo agli artisti ma anche a chi si occupa di poi tutto quello che è l'arrangiamento la produzione ai musicisti smettetela di copiare i suoni degli altri cerchiamo di costruire dei suoni particolari come diceva un artista molto interessante che avevo visto live lui sul palco Nils Fram per chi lo conoscesse un artista molto interessante aveva detto la composizione parte sempre prendendo un suono fighissimo o un suono di merda e creando questo contrasto e poi attorno a quello ci costruisci tutto il resto figo l'ho trovato un concetto molto interessante se in più ci metti il fatto che ogni suono può e deve essere rappresentativo di un'emozione di un concetto e quindi ogni suono può essere il personaggio di una storia di un film allora lì si può creare qualcosa di veramente figo con uno spazio sonoro veramente interessante spazio sonoro tra l'altro tema che approfondiremo ancora nei prossimi contenuti comunque ricapitolando è molto dura fare questo di mestiere è dura in generale per un artista emergente riuscire a fare della propria arte un lavoro è dura riuscire a guadagnare abbastanza anche se c'è già un buon lavoro sull'identità artistica e sull'identità sonora e anche se c'è tutto un buon lavoro sulla strategia comunque ci sono molti aspetti non controllabili che che rendono difficile questa cosa ma se non c'è la base se non c'è al centro una tua identità sonora differenziante è impossibile non puoi andare da nessuna parte ma pensaci un attimo è anche logica questa cosa tu come puoi pensare attento occhio a questa frase perché è fondamentale ma tu come puoi pensare di guadagnare da qualcosa che non sta dando valore cioè tu come puoi pensare che qualcuno sia disposto a darti dei soldi se tu non gli stai dando qualcosa di veramente speciale se tu gli stai dando qualcosa che esiste già ma io vado da quello che esiste già cioè se tu mi porti una roba che ah figo suona come i Pink Floyd eh va bene allora comprerò il disco dei Pink Floyd non so se rendo l'idea è proprio qui che c'è che c'è il punto fondamentale che adesso riprendo scopiazzare i propri artisti di riferimento è l'origine del problema per poter ottenere qualche risultato il presupposto è avere il tuo sound autentico e riconoscibile il tuo sound differenziante la tua proposta di valore differenziante vivrebbero in termini di marketing quindi copiare è una cosa che è totalmente nonsense ti servono dei riferimenti perché comunque non vivi in una bolla di vuoto cito un altro artista che mi piace Jack White che in una sua canzone diceva se riavvolgi il nastro stiamo tutti copiando Dio cioè questa cosa un po' di dire ah no io vivo in un limbo di vuoto non copio nessuno non esiste tutti ci ispiriamo e copiamo copiare gli altri all'inizio è la prima via è l'unica via per iniziare a costruire qualcosa di nostro però non per dire ah questa cosa ha funzionato per quell'artista allora la faccio anch'io così funzionerà anche per me no quell'artista ha fatto questa cosa ha fatto queste scelte per questo motivo ah figo quindi ci vuole un motivo per fare delle scelte questa è la chiave questa informazione vale oro le reference ti servono non per copiare degli elementi ma per capire quali meccanismi stanno dietro alle scelte per capire quali per poi costruire i tuoi di meccanismi per poi fare le tue di scelte tu puoi fare dei rimandi puoi prendere degli elementi e strizzare l'occhiolino al tuo artista preferito puoi fare quel riflettino fare quella citazione in testo in suono in passaggini puoi farlo puoi fare dei rimandi è una cosa anche molto figa da fare una citazione un omaggio ma ma il tuo stile deve essere il tuo stile la tua musica deve essere la tua musica e quando qualcuno l'ascolta non deve dire ah sei il nuovo Bruce Springsteen minchia poi ne ho scelto uno che già mi sta sulle palle l'originale figura non ci chi lo copia ma come dire non ti serve a niente essere il nuovo qualcuno è stupido tu devi essere te stesso devi essere il nuovo 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 punto non il nuovo qualcuno devi essere il nuovo qualcosa che non si è mai sentito qualcosa di totalmente inedito e poi fare tutto il resto dopo devi avere anche la strategia ma come abbiamo visto la strategia dipende da chi tu sei dipende dalla tua identità quindi è lì che devi investire non devi mai investire non devi più investire in fare tante produzioni a caso copiando gli altri devi investire nel farne poche ma giuste produrre quelle cose in quel modo che ti permetta di creare qualcosa di totalmente nuovo dai sapori e colori mai visti non so se ti hai mai pensato questa cosa come fa uno a innamorarsi di te se sei uguale a qualcun altro come fai nel lungo periodo a creare qualcosa di fresco se continui a copiare gli altri è impossibile lo so che nessuno ci ha dato le basi per l'unicità a me dispiace non è colpa tua se ti sei trovato a copiare i tuoi artisti di riferimento viviamo in una società che ci obbliga a copiare che ci ha portato a omologarci a essere accettabili a essere a dire guarda guarda lui che bravo come fa fallo anche tu così invece di dire tu che cosa vuoi fare in che cosa sei bravo qual è la tua vocazione la società non ci ha educato all'unicità ci ha educato a essere dei soldatini ma se tu hai scelto di fare l'artista non hai scelto di fare il soldatino hai scelto di essere libero se vuoi e come artista hai un enorme potere in mano gli artisti hanno il potere di cambiare le sorti della società anche di confrontarsi e di affrontare quello che sono le regole della società no di dire no questa cosa a me non me ne frega niente io voglio fare le cose così punto e basta e fotte sega e fanculo gli altri e chi se ne frega del giudizio un artista è può essere molto potente ma come ogni potere anche questo genera responsabilità se sei un artista sei responsabilmente libero quindi adesso vai e scegli le tue reference fai l'esercizio gratuito che sto proponendo da un po' dai lo trovi al link in descrizione lo ripeto oggi per la terza o quarta volta vai a farlo è un esercizio fighissimo ma non perché te lo dico io perché è un esercizio che ho fatto io in primis e quando mi è stato proposto quando ho dovuto fare quell'esercizio madonna ma sono stato male ci ho messo due settimane mi sentivo scemo dire ma è possibile che non riesco a trovare cinque reference con dei parametri che non erano i parametri che io propongo nell'esercizio erano altri ma è estremamente è una cosa che ti arricchisce tantissimo dentro e che ti permetterà di fare veramente il primo step per costruire un tuo sound unico quindi io veramente ti invito a farlo è gratuito perché sono un romantico del cazzo e perché mi va di regalare questa cosa vai scaricati l'esercizio scegli queste cinque reference secondo questi cinque parametri che io ho messo per questo esercizio che sono lo spazio sonoro il contenuto lirico se c'è un testo o comunque contenuto come dire concettuale la linea vocale o la linea strumentale principale l'arrangiamento ritmico e l'arrangiamento strumentale scegli queste cinque reference mandamele e dopodiché organizzeremo una call senza impegno gratuita lo ripeto parliamone io sono qui perché onestamente sono curioso perché onestamente voglio creare queste connessioni anche attraverso questa merda online così come faccio nel mondo reale mi piace sedermi a un tavolo e discutere parlare di idee fai questo esercizio e sentiamoci mandami le tue risposte parliamone e vediamo e vediamo come dire quali sono le tue idee quali sono le cose che ti ispirano quali sono secondo te gli elementi che puoi prendere e portare nel tuo progetto e perché quindi spiegami bene perché ogni reference è un tuo reference e vediamo discutiamone e creiamo creiamo qualcosa creiamo del confronto creiamo della crescita artistica per te per me per chiunque via saluti romantici da quel di Lugano un caro saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video